I giornali hanno scritto già molto, ci sono state anche delle accuse incrociate tra i vari gruppi politici perché nelle decisioni prese precedentemente il Consiglio Comunale i consiglieri di maggioranza che ci sostengono hanno dichiarato che nella riunione dei capigruppo ci era stata la disponibilità a non uscire dall'aula di un gruppo dell'opposizione, non faccio nomi per non entrare nel merito che poi invece è uscito insieme agli altri gruppi di opposizione determinando di fatto l'annullamento i nostri rappresentanti della maggioranza dichiarano che questa non era stata dichiarata al momento della riunione dei capigruppo e quindi hanno intravisto una sorta di furbizia da parte appunto dei rappresentanti di questo gruppo d'opposizione per far sì che appunto il Consiglio Comunale fosse annullato, ben sapendo, dicendo ai nostri consiglieri di maggioranza che in quell'occasione loro avevano delle assenze già giustificate e quindi mettendo sul tavolo il fatto di mettersi d'accordo se cambiare il giorno o se invece evitare questa possibilità e quindi giocando in netta trasparenza. Da qui poi sono sorti tutta una serie di incroci di accuse tra i vari gruppi politici, di fatto il Consiglio Comunale è stato annullato voglio dire questo da un punto di vista pratico non ha comportato alcun elemento negativo nonostante noi dovessimo andare a votare un documento che era la delibera della conferenza di servizio sociosanitario del nostro distretto che normalmente deve essere deliberata entro la fine del mese di aprile, il fatto di averla deliberata la settimana successiva non ha comportato alcun problema. Rimane in sé solo l'immagine di questo avvenimento che ovviamente è stata anche molto evidenziata dalla stampa nei giorni successivi. Io dico che a me piace poco, questa è una mia considerazione personale, questo dibattito politico fatto di immagini eclatanti ma che dietro non hanno una sostanza, non hanno sostanza. Questo è il mio parere. Ci si può combattere, lo si fa anche duramente all'interno del Consiglio Comunale quando si cercano forme tra virgolette pubblicitarie o di impatto per far parlare la gente fuori ritengo sempre che sia sempre una distorsione del dibattito serio che dopo ci si perda invece in discussioni molto banali che non portano nessun risultato. I consigli comunali sono degli appuntamenti importanti in cui si votano delle delibere, il fatto di farli svolgere in piena attività io penso sia un impegno che ogni consigliere sia della maggioranza che della minoranza deve avere come impegno principale io ritengo che bisogna sempre fare in modo di portarli avanti anche se con dibattiti accesi e impegnativi. Sono contrario a queste manifestazioni che hanno molto da immagine pubblicitaria e che creano solo parole nel vuoto, io dico nessun altro elemento se non poter poi attaccare politicamente, attaccarsi tra le varie forze politiche.